Siamo a Roma con il professor Renato Cutrera, direttore dell'unità operativa complessa broncopneumologia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e quindi ci occupiamo di malattie respiratorie nel bambino. Siamo tra l'altro nell'ambito di un convegno molto interessante che parla di riniti allergiche nell'infanzia, un problema come abbiamo sentito in enorme aumento e molto spesso le riniti allergiche hanno complicazioni respiratorie importanti che possono chiaramente essere invalidanti anche per il bambino. Cominciamo col dire quali sono i meccanismi che portano da un'infiammazione nasale a un'infiammazione respiratoria? Sì, diciamo che l'infiammazione presente nel naso nell'arnita allergica fa parte di un meccanismo complesso di allergia che prende non solamente il naso ma che può prendere anche i bronchi, per esempio l'aumento dell'asma bronchiale allergico è senz'altro facente parte del gruppo dell'aumento delle allergie. Questo è dovuto, come sappiamo ormai, a un cambiamento del nostro stile di vita. Quindi abbiamo delle meccanismi di protezione da parte delle infezioni da parte di certi parassiti, che è sicuramente un bene perché questi portavano a malattie gravi, a volte mortali, ma il nostro sistema immunitario non si difende più contro queste infezioni e di conseguenza va a svilupparsi in senso allergico. La sfida per i prossimi anni è di trovare qualcosa che ci aiuti nel non avere le infezioni e nel prevenire anche questo grosso fastidio. Se vogliamo parlare appunto dell'asma come una tra le complicazioni importanti, tra l'altro è un fenomeno che sempre spaventa molto, soprattutto nelle forme più gravi, sia il bambino che i genitori, perché chiaramente crea allarme. Quali sono le indagini più importanti per arrivare a una diagnosi certa e quali sono le terapie di lezione? Innanzitutto parliamo di respiro sibilante nel bambino. Nel bambino prescolare è molto frequente avere la cosiddetta bronchite asmatica, che il pediatra spesso diagnostica in modo brillante. Non tutti questi bambini, fortunatamente che sono circa il 25% della popolazione generale, quindi 1 su 4, sviluppa poi asma, perché sappiamo che l'asma in età pediatrica nei vari paesi occidentali varia intorno al 10-13%. Certo, sono numeri molto grandi e quindi la possibilità di una buona diagnosi è data innanzitutto dall'anamnesi, quindi dalle domande che il pediatra vi farà sulla familiarità e sugli stili di vita, sulla storia clinica, quindi sul numero degli episodi che ha, per esempio dal fatto di avere sintomatologia respiratoria quando il bambino corre o quando il bambino ride, che sono delle spie di una iperreattività dei bronchi e poi soprattutto dell'efficacia della terapia, perché il modo più semplice per fare diagnosi è un breve trattamento terapeutico che il pediatra di famiglia sicuramente darà alle mamme che ci ascoltano e che potrà pertanto stabilire se il bambino è affetto da asma. Altri esami complementari ovviamente sono la spirometria nel bambino più grande e tutti i test di funzionalità respiratoria e allergica. Certo, parliamo di un'altra complicanza respiratoria legata alle rene di allergica e cioè le problematiche del sonno, le apnea notturne, le cosiddette osas. Cominciamo a spiegare esattamente che cosa sono e come possono essere individuate da un genitore, quali sono le spie che fanno capire che il bambino sta soffrendo di apnea notturne? Ma dunque, molti bambini presentano problemi durante il sonno e questo affligge ovviamente sia le mamme sia i papà, perché questo produce ovviamente risvegli frequenti e anche preoccupazione. Il sintomo più frequente delle malattie ostruttive durante il sonno è il russamento. Non tutti i russamenti sono patologici, ma sicuramente se un bambino russa è il caso di parlarne col pediatra di famiglia che è sempre il primo filtro. Se altre domande sono poi fatte dal pediatra sia di famiglia è che riguardano invece se il bambino presenta delle pause durante il sonno e a volte i genitori ormai in tempi di tecnologia assolutamente inutile fanno invece delle cose utili, perché quasi tutti i telefonini ormai possono permettere delle registrazioni dei videotape molto brevi e a volte i pazienti, i genitori, vengono già con la registrazione del bambino, guardi cosa succede dottore durante il sonno e questo è stato studiato e in certi casi già fa fare diagnosi. Quindi cosa sono queste apnee? Sono delle diminuzioni della capacità del bambino di emettere aria, quindi di respirare, perché tutti noi facciamo delle apnee tra un respiro e l'altro, non respiriamo. Quando però questa apnea, questa diminuzione, questa assenza di respiro produce una diminuzione della saturazione, quindi dell'ossigenazione nel sangue o una diminuzione della frequenza cardiaca, ecco che le apnee diventano patologiche e possono portare a guai. Guai che se ne vogliamo parlare... Sì, stavo proprio per chiedergli, infatti. Quali sono i rischi che corre un bambino? Perché per un adulto ci sono dei rischi anche sociali, ma per un bambino ci sono anche dei rischi funzionali anche nello sviluppo degli organi. Parliamone un attimo. Allora, quello di cui siamo certi e di cui ci sono ormai grandi dati in letteratura sono che mentre l'adulto che ha difficoltà e ha apnee nel sonno, durante la veglia ha sonnolenza, quindi durante il giorno si addormenta frequentemente, il bambino invece è un bambino iperattivo, agitato, che ha uno scarso rendimento scolastico, che spesso si comporta o a volte si comporta in modo aggressivo anche. Questo è un bambino che dorme male o che potrebbe avere come causa il fatto che dorme male. Esistono dei test per studiare questo, ma chiaramente, ripeto, mai rivolgersi direttamente agli specialisti, ma sempre attraverso i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia. Sappiamo che un accertamento importante per valutare le appre notturne è la polisonnografia. Spieghiamo esattamente che cos'è e in quali casi va eseguita. Come dice il termine, poli, quindi molti parametri, durante il sonno, grafia perché vengono registrati. Bene, quindi noi utilizziamo dei sensori, nei casi più semplici basta solamente un sensore sul dito che misura quanto ossigeno abbiamo nel sangue. Nei casi di media complessità misuriamo anche l'escursione del torace e dell'addome, misuriamo il flusso, quindi la capacità di emettere aria nel naso e dalla bocca e misuriamo l'elettrocardiogramma. Nei casi più complessi, invece, dove serve un ricovero ospedaliero purtroppo oppure un ambiente dedicato, si studia anche i canali elettroencefalografici, i movimenti degli occhi e molti altri parametri possono essere aggiunti. Questi esami più semplici, quindi la saturimetria e la polisonnografia cardiorespiratoria, quindi senza elettroencefalogramma, possono essere fatti anche in regime ambulatoriale dando l'apparecchio come se fosse un alter, quelli più conosciuti insomma, che viene dato a domicilio e viene poi riportato e registrato e analizzato dai medici. In base a questi dati e ovviamente partendo da una rinite persistente, perché chiaramente i bambini che vanno incontro a difficoltà respiratorie partono da una problematica che si protrae nel tempo, quali sono le terapie di lezione per risolvere la rinite in primis ma anche e soprattutto le conseguenze respiratorie? Fermo restando che non parleremo di tutta la rinite allergica perché ci sono specialisti che ne parlano, ma il problema comune tra il bambino che respira male durante il sonno e l'ernite allergica è la congestione del naso. Il naso che effettivamente dovuto all'infiammazione dell'allergia aumenta di dimensione per esempio a livello dei turbinati. Questo produce una alterazione di alcuni recettori che stanno dentro al naso e che possono andare a influenzare sia sul driver respiratorio centrale, quindi dare delle apnee centrali, sia sul tono delle vie aeree superiori che sono quelle che si chiudono per esempio nei bambini e negli adulti con obesità e sovrappeso perché c'è più atipe. Noi tutti durante il sonno se ci misuriamo la saturazione abbiamo un'ossigenazione più bassa, ma questa è fisiologica. Perché? Perché durante il sonno noi stiamo in una situazione di riposo. Se però c'è un'apnea ostruttiva il guaio diventa importante. Stavo accennando appunto ai bambini obesi, indipendentemente dalle allergie, quanto è importante il rapporto fra obesità infantile e difficoltà respiratorie che poi chiaramente possono portare conseguenze anche nelle dalle adulte. È enorme, enorme, lo stiamo studiando e ci sono già dati che fanno vedere come grossolanamente i fenotipi, brutta parola per dire, i tipi dei bambini che hanno problemi del sonno sono o dei bambini magri che di solito hanno ipertrofia adenotonsillare oppure sono dei bambini obesi in cui ci può essere l'ipertrofia adenotonsillare ma può anche non esserci. E in questo bambino ovviamente la patogenesi dell'apnea e del sintomo respiratorio si aggrava sia durante la notte con le apnee ma anche durante il giorno per esempio con l'associazione tra asma e obesità. Ecco proprio parlando di asma sappiamo che comunque normalmente con l'aumentare dell'età tende a migliorare però è effettivamente un problema nell'età invece scolare, nell'età anche nei bambini molto piccoli. Quale prevenzione può fare una famiglia e anche a livello ambientale si può migliorare le condizioni in cui vive un bambino con problematiche asmatiche? Ma io innanzitutto vorrei lanciare un piccolo appello al fumo e al fumo passivo. Se ci sono dei genitori fumatori mi raccomando l'ambiente, anzi innanzitutto ai genitori fumatori bisogna dire smettete finché siete in tempo. Secondo per i vostri figli smettete perché gli date un ambiente più libero e quindi con meno reattività bronchiale ma soprattutto è dimostrato che i figli dei fumatori saranno fumatori a loro volta quindi smettendo date un esempio positivo e eviterete molta patologia nei vostri bambini da grande. Tornando al punto specifico dell'asma se noi riusciamo a mettere in atto una buona misura ambientale a diminuire l'esposizione all'allergene, in qualche caso selezionato anche con l'immunoterapia specifica, l'asma da una malattia diventa un grosso fastidio. Se noi abbiamo ormai farmaci che non ti fanno guarire nel senso che tu rimarai asmatico ma sarai libero di sintomi e farai una vita normale e non li devi prendere nemmeno durante tutto l'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.